Ancora pochi giorni e si parte, prima con il collegio dei docenti, poi con le riunioni di dipartimento e consigli di classe, infine con il ritorno degli studenti in classe e le lezioni vere e proprie. Ma cosa dobbiamo aspettarci per questo nuovo imminente anno scolastico? Prima di tutto c'è il patto di corresponsabilità scuola genitori che ha il debutto nella scuola primaria, coinvolgendo direttamente le famiglie in tema di mancanze disciplinari e relative sanzioni. Massima trasparenza e informazioni sulle attività e la progettualità degli istituti scolastici, maggiore condivisione degli interventi di formazione e prevenzione in materia di bullismo e cyberbullismo. C'è poi l'esordio della nuova inclusione scolastica riguardante gli alunni disabili, a seguito delle regole approvate dal Parlamento e pubblicate in gazzetta ufficiale. Diverse le novità a partire dall'assegnazione delle ore di sostegno che verrà decisa d'intesa con le famiglie, sussidi, strumenti, metodologie di studio non saranno più elaborati in modo standard, in base al tipo di disabilità, ma con un piano didattico individualizzato che guarderà le caratteristiche del singolo studente. Trova conferma poi la diminuzione dello spazio per l'alternanza scuola-lavoro, anche in seguito al calo dei finanziamenti. Il Monte Ore, pressoché dimezzato rispetto a quello introdotto con la legge 107 del 2015 approvata al governo Renzi, è stato infatti rimodulato dall'esercizio finanziario 2019. Dopo il decreto ministeriale, che avvierebbe per il 2019-2020 la sperimentazione della nuova educazione civica e la convocazione delle CSS-PI per acquisire il parere previsto per legge, il ritorno immediato sui banchi dell'educazione civica rimane incerto. Quello che sta per arrivare potrebbe anche essere l'anno dei concorsi. Nelle scorse settimane il Ministero dell'Economia ha annunciato il via libera al reclutamento di 53.627 docenti. La procedura di assunzione andrà al regime proprio da questo anno scolastico e dovrebbe scongiurare il rischio di avere troppe cattedre senza titolare a partire da settembre, anche per effetto di quota 100 che ha portato a circa 31.000 pensionamenti nel settore scuola. Solo che molte convocazioni per le emissioni in ruolo stanno andando deserte, soprattutto sul sostegno, per la matematica alle medie, per alcune discipline tecniche alle superiori, per molti i tipi che non riescono ad ottenere il via libera nei concorsi. C'è poi il problema delle supplenze che quest'anno è letteralmente esploso. Anief ritiene che saranno quasi 200.000 supplenti, di cui oltre 60.000 di sostegno nell'anno scolastico alle porte, su un totale di circa 844.000. In pratica, su tutti coloro che saranno in cattedra a settembre, uno su cinque sarà precario.